Se il tuo obiettivo è diventare operatore socio-sanitario, con il Centro Studi Aurora puoi iscriviti al percorso formativo per il conseguimento della qualifica OSA e per la riqualificazione OSS. Destinatari, soggetti occupati e disoccupati in possesso almeno della licenza media inferiore. Il percorso formativo è riservato ad un numero massimo di 20 partecipanti e le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. I corsi si svolgeranno a bagheria. Il percorso formativo, suddiviso in due fasi, si articola in Corso di formazione in operatore socio-assistenziale OSA Corso di riqualificazione in operatore socio-sanitario OSS Per le iscrizioni potrai contattare la nostra segreteria Sita a Santa Flavia in via San Marco numero 105 Telefono 091 90 19 56 O visita il sito www.csaurora.it